Seconda fascia di campionato, il primo gol è sugli occhi di tutti, di nuovo l'infortunio di Mannai sullo stop invece dell'impatto e do delle colpe grossissime a Zaccone sul gol di Leone perché è vero che lui ha calciato dritto per dritto però un metro dal palo sul tuo palo non puoi prendere gol in questo modo. Nonostante tutto, nonostante questi due infortuni, abbiamo cercato di fare la partita con dei ritmi bassi come dicevo prima perché sul 2-1 se avessimo avuto la gamba già solo di sabato scorso a Saluzzo comunque portiamo a 3 il risultato. Aver dovuto fare il cambio di Sousa con Drago è un cambio che è stato fatto in funzione proprio della poca brillantezza della squadra e della difficoltà nel gestire il risultato del 2-1, era un cambio che assolutamente nella mia testa non volevo fare però passavano i minuti e vedevo che faticavamo tantissimo poi nella gestione della palla quindi ho dovuto mettere un difensore in più e questo ha portato degli effetti secondo me importanti perché il Cavour non è più stato pericoloso tranne in qualche mischia e in quella giocata di Pareschi quando ha toccato la profondità sulla destra che ha calciato di sinistro fuori forse è l'unica situazione che abbiamo concesso. I nostri due gol invece sono di fattura incredibile per la categoria quindi è questo che imputo al gruppo Pinerolo in questo momento il dover noi segnare con delle situazioni importantissime su situazioni improvate anche nel corso della settimana il gol di Piroli è proprio una giocata che nel nostro 4-3-3 è la vicina l'entrata dentro la punta esterna con l'attacco della profondità di Piroli e il giro palla col tiro del centrocampista che arriva poi da metterla dove l'ha messa a Pantaleo oggi ce ne va però la giocata è quella che si prova poi oggi ha fatto un gol fuori dal normale assolutamente, avevamo anche tra l'altro qualcuno che non stava bene ha dovuto giocare, Cretazzo ha giocato con la febbre però sono contento perché comunque abbiamo sempre provato insomma, venire a Pinerolo con questa personalità penso che non... dopo l'1-0 quel gol lì è stato un gran gol però mezzo rigore su Pareschi lui ha deciso di tirare secondo me era rigore non era rigore però lui ha deciso di tirare, in questo momento un attaccante si trova lì poter saltato precarie condizioni, calcio, un attaccante lui quindi... va bene però... però ripeto io non ho niente da dirci ci mancherebbe che non mi ha tornato a dire qualcosa alla squadra quindi ora ritorno... però se voi fate un passo indietro anzi tre mesi indietro siamo venuti qua a Cavul, con il Cavul in Coppa Italia sembravamo... qualche vostro collega ha detto che dovevamo lottare per i play out invece abbiamo... oggi abbiamo giocato... alla parte sicuramente... non come... però era normale, io l'ho detto noi iniziamo... iniziamo due settimane dopo le altre perché questo è dilettante, noi facciamo dilettanti non inizio ad agosto, io non... il primo ad agosto perché la gente lavora, compreso il sottoscritto quindi... e quindi se pensate tre mesi fa come eravamo come siamo venuti a Pinerolo abbiamo avuto solo quattro giorni non posso neanche definirli una partita che non meritavamo di perdere nel senso che... sono quelle partite che... come oggi, di un equilibrio dove un'occasione per uno o per l'altro può cambiare la partita quindi...